Siamo all'Oasi di Canevie con un appassionato di erbe Remo Finessi. Cerchiamo insieme di spiegare la bellezza delle erbe e degli alberi che ci circondano. Noi sappiamo molte cose a volte sui monumenti ma poco su questa meraviglia verde che ci circonda. Dico bene Remo? Sì, dici benissimo. Qui a Canevie infatti c'è una vegetazione bellissima che praticamente è particolare e tutti non conoscono perché acqua salmastra e insomma è un circondario pieno di meraviglie che insomma altrove non si trova. Per chi non lo sapesse siamo in provincia di Ferrara. Canevie è una piccola valle di 58 ettari che aduce acqua sia dal po' di volano che dal taglio della falce. e abbiamo come vedete dietro di noi la caratteristica struttura dei primi anni del Novecento. Una struttura da pesca era all'epoca con il stile Veneto e lo si desume dal camino a gettante all'esterno. È una struttura molto bella, ben conservata che ci riporta agli anni ma ne parleremo dopo con Remo della pesca e del lavoriero che abbiamo. Adesso andiamo a scoprire la bellezza delle erbe che ci sono in questo posto. Allora questo è fra i tanti alberi che ci sono qui da noi autoctoni c'è il leccio, il Quercus ilex e della famiglia delle querce. Ed è una pianta molto lenta nella crescita, infatti questi alberi che vedete dietro di me avranno un 50 anni sicuramente per diventare così. Pensate che qui a Goro, è un paese qui vicino a Volano dove siamo adesso, i pescatori che dovevano cuocere il pesce non cuocevano se non avevano questo legno particolare perché dà un profumo molto buono al pesce, dicono loro, e andavano a rubarlo in boscone di notte, specialmente le donne. Mia suocera andava a rubare il leccio per cuocere il pesce, anche per scaldarsi però. Volevo chiederti, queste infiorescenze che cosa sono? Sono le infiorescenze che fanno le ghiande, qui nascono le ghiande perché questa è una quercia, è una quercia vera e propria. Fa parte delle querce, della famiglia delle querce come la quercia, la farnia, tutte quelle piante lì insomma. Un legno molto duro, e qui crescono rigogliose e non si ammalano perché trovano l'ambiente e il terreno adatto. Allora pensate che in certi posti in Italia fanno di queste leccette, le infestano con un batterio che si chiama Kermococco del leccio, questi insetti fanno delle galle, si formano delle galle sulle foglie, le galle tonde, questi qua fanno le uova dentro, nascono i piccoli e questi qua per tutto il tempo fino alla maturità fanno gli escrementi dentro. A un certo punto escono e i contadini raccolgono le foglie malate e poi tirano fuori questi escrementi che è una cosa rosa, una polverina. E con questo fanno l'alchermes, fanno l'alchermes. Il liquore? Il liquore, mi dispiace dirlo per le donne che si possono, che la doperano molto, però l'alchermes sono le cacche dei batteri. Il liquore, mi dispiace dirlo per le donne che si possono, che la doperano molto, però l'alchermes sono le cacche dei batteri. Il liquore, mi dispiace dirlo per le donne che si possono, che la doperano molto, ma l'alchermes sono le cacche dei batteri. Grazie a tutti